Primo spettacolo Il pubblico ti conosce, ha fatto una grande gavietta e porti i tuoi spettacoli a teatro da tanti anni ma in realtà anche attraverso la televisione, sei uno di quei comici che è arrivato anche in televisione ad esempio Colorado Caffè, mi viene in mente volevo chiederti, partendo proprio da questo, che cosa rappresenta per te tornare a teatro dopo aver comunque fatto anche televisione e continuando a fare anche televisione? In realtà lo lascio sempre per pochissimo tempo, giusto il tempo un attimo per rinnovarmi per esempio questo spettacolo viene da un anno di fermo col cabaret perché l'anno scorso ho fatto un musical che si chiamava Alice nel Paese delle Meraviglie e quindi durante tutto il tempo in cui ho fatto il musical ho avuto tempo per scrivere questo spettacolo nuovo Revolutions, rivoluzioni Sì, perché credo che i tempi siano maturi, no? Beh, credo proprio di sì, ci sia bisogno, ma in realtà si dice storicamente che in Italia è impossibile una vera e propria rivoluzione laddove ad esempio in Spagna si è fatta, in Francia si è fatta, in Inghilterra, ovunque E toccherà anche la rivoluzione Eh, toccherà, siamo giunti nel momento in cui Insomma, quali sono gli elementi che concorrono a creare questo spettacolo? Che, insomma, nel tuo stile in realtà mette insieme tante cose Un spettacolo di arte molto varia Molto varia Dentro ci sarà, dal teatro classico, ci sarà addirittura il Riccardo Terzo fino a una presa in giro del musical Poi i monologhi, i canzoni, i buzz, il lettore multimediale e poi il fantastico Il super buzz, certo Sì, il super buzz e poi il fantastico ospite, il cantante famoso in tutto il mondo Ormai, se vogliamo, Gianniciano che sta riscuotendo Chi è Gianniciano? Raccontiamo un po' chi è Gianniciano Gianniciano è un cantante che ha avuto successo in Sud America Adesso finalmente è riuscito ad arrivare Vuoi che te lo passano? Sarebbe perfetto, sentiamo Gianniciano Grazie a tutti Molto bene Volevo salutare tutti gli ascoltatori Siete tutti bellissimi E volevo ricordare che la maggior parte dei proventi di questo spettacolo Andranno ad un'associazione che si occuperà di una malattia terribile Una malattia ghiacciante che si sta diffondendo in tutta Europa, in tutto il mondo E sto parlando del culo basso No, ma ti è gravissimo No, ma ti è gravissimo Oh, ma ti è gravissimo No, ma ti è caricato di questo spettacolo